Seconda guerra mondiale con Ierno Trulli Qui siamo sul traguardo, si parte per il giro lanciato abbiamo una curva molto veloce a destra dopodiché un curvone che si fa in pieno e si arriva alla frenata per tornantino tornantino a destra in seconda marcia si accelera a terza si frena di nuovo a seconda marcia un altro tornantino a sinistra si accelera e poi si portano le marce fino alla settima per un lungo rettilineo che ci porta verso una doppia curva a sinistra che si affettua in terza marcia poi subito una curva a destra molto scivolosa e poi in uscita di nuovo si salgono tutte le marce fino ad arrivare alla settima per ripartire sul vecchio circuito prima curva velocissima a destra in quinta marcia e poi si va verso le becchets sinistra, destra ancora sinistra si scende in quarta marcia e qui si accelera si mette la quinta lungo rettilineo fino alla settima che ci riporta verso diciamo la parte nuova del circuito qui lungo curvone in quarta marcia sul cordolo poi quinta in uscita sesta si frena per un tornantino lento in seconda marcia sinistra destra si riaccelera terza marcia e poi di nuovo curva che ci rimette sul rettilineo principale grazie a tutti grazie a tutti